Il giorno più importante nella storia della Stratton e io avevo bisogno di avere la mente sgomba Il giorno in cui lanciammo l'offerta pubblica iniziale di Steve Madden La truppa è tutta qui, riuniti e compatti e tutto doveva filare liscio, doveva essere perfetto Ma quello che cazzo sta facendo? Che sta facendo? È la più grande offerta pubblica nella storia di questa società e quello che cazzo sta facendo? Quello col papiglione? Ciao Come te la fassi? Bene Pulisci la boccia del pesciolino? Avevo un minuto e così Avevi un minuto? E allora lo dovevi fare proprio oggi? Avevo finito di riempire i moduli, avevo un paio di minuti Ok, molto piacere In una giornata del genere? Nel maledetto costoso giorno di una nuova emissione? È questo che stai facendo? Ehi, attenzione, state tutti a sentire Ecco che succede quando fate gli stronzi in un giorno dal genere Prendi il tuo papiglione, tutte le tue cose e vai a fare in culo fuori dal mio ufficio, è chiaro Fuori dai coglioni Tutti ai vostri posti, siamo qui per fare i soldi Cercate di non dimenticarvelo Era una vera Era una vera